Con luce in trepido Maygrave, buonasera e la signorina Daniela Dezzurla. Amici telespettatori, ben ritrovati qui con l'edizione 2021 a Sanremo! Tristezza tutti quanti, tristezza! Io sono il vostro Mai, buonasera! Allora, signori e signori, per questa edizione 2021 abbiamo un po' di ospiti e iniziamo bene con... Allora, abbiamo un paio di nomi, scusate perché io non vedo molto bene, qui Sugobo dice che abbiamo il primo ospite, dice che è rimbambito, porta il panolone e si fa chiamare Paolo! E lo chiamiamo qua sul palco, signor Paolo, venga! Buonasera, buonasera a tutti! Buonasera, buonasera signor Mai, buonasera! Buonasera a lei! Allora, che cos'è che ci canta? Lo canterai una bella canzoncina, quella che fa... Penso che un rutto così non ritorni mai più! È sicuro, signore? Non è un po' troppo questa cosa, però va bene, ecco, lo dice lei, va bene! Prego, allora, signor Paolo, con Penso che un rutto così non ritorni mai più! Prego, maestro, facci partire la canzone! Penso che un rutto così non ritorni mai più! Prego, bevevo la birra a testa in giù, poi all'improvviso mi ritrovai a fluttuare nel cielo infinito, e la pancina che gorgogliava, blu, 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 blu tutti i sensi. Comunque il codice del signor Paolo è 001. Votate a voi da casa per il nostro cantante preferito. Lo show show must go on. Andiamo avanti e abbiamo un ospite che canterà. Qua dicono che porta gli occhiali ride spesso quando si dice Marietta. Marietta. Non è successo nulla. Qua dicono che ride spesso dicendo il nome Marietta. Ah, oh signora, adesso. Buonasera signora, mi ha fatto prendere un coccolone, mamma mia. Allora signora, lei è Marietta, giusto? Sì. Cosa canta oggi ma signora Marietta? Non se lo ricorda signora? Ho dimenticato, aspetti. Oh signore, non si preoccupi e l'emozione capita a tutti. Allora vediamo qua Sugobbo. Sugobbo dice che lei canterà Pa, 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 Pa Paolo, prego signora, prego signora, e uno, e due, e un, due, e tre. Complimenti signora, complimenti, ahh, che paura signora, non mi faccia, e non faccia cosi che mi fa spaventare signora. signora ma che paura allora la signora ci ha cantato la sua canzone che mi è partito un uccicone nell'occhio signora per favore non facci così la signora ci ha cantato papa paolo il suo codice canzone è 002 signori abbiamo iniziato davvero col botto e abbiamo abbiamo avuto qui due cantanti intanto davvero sensazionali io non so più che cosa dire perché qua mi stanno pagando per dire queste fesserie perché sono davvero cantanti lasciamo perdere andiamo avanti eh signora per favore mi lasci condurre ecco andiamo avanti abbiamo un'altra cantante chi è stato non si fanno queste cose per averci tanto cielo siamo in diretta per favore contenetevi allora come stavo dicendo siamo non mi ricordo più ho perso il filo scusate ecco si ride signora che cosa fa qua si vada dietro le quinte lei signora per favore il gabinetto da quella parte signora vada vada siamo in diretta mondiale scusate signori scusate chiedo scusa di questa questa cosa è imbarazzante davvero tanto scusate allora andiamo avanti come stavo dicendo abbiamo una cantante si chiama aspida proveniente da un luogo sconosciuto lei dice di avere 24 anni e come guardi come sono bella o signore lei chi è sono lapida no forza miseria signora per favore cosa fa ancora qui è la sua sorella cognata sorella uguale tanto tanto non la conosco io questa continua appiccicarsi e non essere imbambita che cosa ci devo fare ogni tanto devo ogni tanto devo fargli qualche carezzino sulla testa gli do qualche oh vai vai mangiata ma cosa la banana vada vai vai signori per favore basta tutte e due allora oggi io vi canterò una bella canzoncina ma è proprio bella 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 ma è bellissima e quella lasciatemi cantare signora la lasciamo certo che la lasciamo cantare no no è il titolo lasciatemi cantare ma signora gliel'ho già detto certo che la lasciamo cantare ma io avevo detto lasciatemi cantare lasciatemi cantare signora non sarrabbi gliel'ho già detto vada a cantare signoranza basta io mi licenzio me ne vado da questo schifo di posto andatevene via tutti quanti ciao via il po di programma è già dalla volta scorsa che mi fate questo scherzo io me ne vado via basta me ne vado via madame a te non so come fa a rimanere io me ne vado ciao 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 la signora astida ha abbandonato così ma signora signora torni qui per favore l'avevo soltanto detto torni qui a cantare canti davanti al pubblico io avevo detto che volevo cantare gliel'avevo già detto signora va 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 vabbè comunque andiamo avanti allora non abbiamo più un altro cantante abbiamo però un cantante un cantante davvero sensazionale che è un ospite speciale signori e signori un bel applauso per il nostro bruno di sul generale grazie Et culture il approfitto dirusca è sia il ot prolong grazie e grazie grazie ciao a tutti quanti ciao 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 concreti grazie 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 volevo salutare un paio di amici come cellulare un paio di amici da casa posso posso salutare tutti quanti ciao ciao a tutti quanti da casa e salutare tutti così e poi e poi niente sono pronto per cantare la prima volta che bello vede allora signor bruno vada lì e canti prego che cosa ci canta innanzitutto perché non l'ho detto allora è una sorpresa dai facciamo una sorpresa che non è una sorpresa signor bruno ma mi spiace ma qui non possiamo fare sorprese qua è un codice che bisogna votare e allora il titolo della canzone lasciatemi in pace si guardi ecco dal titolo dice tutto porca essa la miseria lasciatemi cantare ecco ma lasciatemi cantare ma non era il titolo della canzone che era della signora che era la di dietro no no è un'altra cosa questa è un altro titolo ah ok va bene va bene prego prego allora signor bruno maestro facci partire lasciatemi in pace lasciatemi guidare io senza il mio autobus in pace io voglio restare io non riesco a restare due minuti e tanta pace senza quei vecchietti che lì sono intorno mi disturbano ogni tanto signor bruno e questi che arrivano mi danno la nauta io non ce la faccio più voglio buttarli giù dall'autobus e voglio rincominciare mi butto giù dall'autobus io li tiro sotto con il mio autobus oh signore scusate che paura che mi ha fatto prendere è finita comunque la canzone che paura signora è il partito mi ha fatto prendere queste paure orta miseria metti qui sul verso e mi lascia cantare ma volevo diventare una cantante da piccolina eh la cantante sono grande da piccolina ma la conoscerò tutti quanti sono ritornato mamma mia tutti e due qua no è un incubo ma cosa è successo cosa mi sono perso qualcosa si sono ritornati tutti e due stavo cantando sono ritornati comunque la canzone era finita ecco ecco va bene comunque allora il signore bruno ha cantato lasciatemi cantare in pace credo a meno che comunque il suo codice canzone è 003 allora poi abbiamo un ultimo concorrente dovrebbe essere ultimo concorrente lui si chiama angelo buonasera buonasera a tutti ciao belle gioie ah buonasera 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 a lei signor angelo che cosa ci ha portato qui oggi allora io vi ho portato una bella canzone remix l'ho remixata tutta io l'ho remixata si chiama belle gioie remix spero che vi piaccia dai su le mani come belle gioie che sarebbe delle sue gioie ecco come inizio il mio ritmo così che io faccio questo è il mio tempo bella gioia ecco come inizia il mio ritmo qui è il canale che noi ci divertiamo noi spartiamo oggi passeremo 2021 noi facciamo divertire siamo qui in compagnia di tutti i nostri vecchietti bella gioia noi siamo qua facciamo andare avanti la baracca andiamo avanti e spacchiamo la faccia bella gioia questo è il mio detto è così che io vado ed è così che noi spacchiamo ciao bella gioia allora siamo ritornati in onda scusate abbiamo avuto un piccolo problema allora signor angelo si è esibito con la canzone belle gioie remix complimenti signor angelo comunque veramente bella allora abbiamo avuto ospiti dall'inizio alla fine e abbiamo anche avuto la canzone questa qui belle gioia remix che è il codice 004 votate voi da casa la canzone che vi piace mi raccomando è abbiamo poi un ultimo ospite credo ce l'abbiamo non ce l'abbiamo ma qua sul gobone qua dice che ce ne avevamo un'altra di ospite vabbè comunque allora non ce l'abbiamo diciamola così che per questo momento il festival si interrompe qui la fine e prima parte signori perché nella seconda parte premieremo ovviamente il vincitore che voi darete dal pubblico mi raccomando votate dallo 001 con il signor paolo 002 con la signora marietta lo 003 per il signor bruno dizul lo 004 per il signor angelo votate mi raccomando amici del pubblico votate votate e che buona serata a tutti quanti e tristessa e tristessa e tristessa e che buona serata a tutti quanti e tristessa e che buona serata a tutti quanti e tristessa e che buona serata a tutti quanti e tristessa e che buona serata a tutti quanti e tristessa e che buona serata a tutti quanti e tristessa